Tori di Quartesolo, brutta avventura per un 93 anni di Caldonio al centro commerciale Le Piramidi. Secondo quanto raccontato dall'anziano, ai carabinieri giunti sul posto qualcuno lo avrebbe fatto inciampare per poi una volta a terra rubargli il portafoglio con 150 euro all'interno. Fortunatamente, nonostante l'età, l'anziano non avrebbe riportato ferite da necessitare le cure dei sanitari. Per lui solo tanta paura e rabbia per il furto. I militari ora stanno visionando le telecamere del centro commerciale che potrebbero aver ripreso quanto accaduto. Grazie a tutti.